Buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, siamo qui sul live, oggi è 7 febbraio del 2017, ho iniziato in questo momento a registrare e la nostra intenzione oggi con Marina Marino e Claudia Valentini è di parlare, condividere alcune esperienze, anche alcune idee, alcuni consigli, tips e anche criticità sulla questione della sicurezza in rete, oggi ricorre la giornata internazionale per un Internet più sicuro e in contemporanea, contemporaneamente a questo in Italia oggi ricorre la prima giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, naturalmente questa giornata ha un tema e il tema di quest'anno è questo che vedete sullo schermo, che è Be the change, unite for a better Internet, quindi siate voi stessi il cambiamento, uniti o unitevi più che altro per un Internet migliore. Il punto di partenza, io partirei velocemente, introdurrei, anzi io farei salutare Marina e Claudia e poi vedo che ci hanno raggiunto una serie di amiche che sono, a parte Claudia e Marina, anche alcune altre amiche che sono Marina Orazzi, Marisa Badini, poi c'è Milena Lato, c'è anche Luisella Mori che salutiamo e insomma poi ci sono un paio di colleghe straniere. Hello everyone, we'll try to translate here and there, so some of the materials are in, the titles are in English, so if you have any comments, if you would like us to translate, we'll do it, ok? And you're most welcome to our e-tweening live. Quindi, se volete salutare, io vi lascio lo spazio. Marina, Claudia. Buonasera a tutti, io sono Marina Marino, collaborerò con Simona insieme a voi per condividere le nostre idee, ma anche riflessioni su questo tema che peraltro è al centro del piano nazionale della Scuola Digitale Italiana, viene in questo momento dibattuto nei corsi di formazione e quindi cade a pennello questa giornata e sarebbe interessante anche che si producesse poi alla fine qualcosa che insomma rimanesse di questo nostro incontro chiacchierata in modo da eventualmente condividerlo anche con altri colleghi. Che ne dite? Claudia. Sì, io vi saluto velocemente e dico grazie che mi avete dato parola, anche se non sarò host come voi. Tempo tecnico in dieci minuti e sarò su un'altra videoconferenza, in un'altra WebEx con European School Net per il progetto europeo di europeana, però il pod, il nodo riguardante la sicurezza, safety delle competenze, delle 5 articolazioni della competenza digitale di G-Comp è importantissimo e quindi è anche integrabile e potenziabile con tutte le azioni che si fanno a scuola per la sicurezza a tutto tondo, cioè non esiste solo un internet sicuro, deve essere sicura la scuola di tutti quanti e quindi è bellissima questa iniziativa di Twinning Toscana per riflettere, condividere e coprodurre, narrarci e costruire buone pratiche su questa attività che ci farà essere veramente il cambiamento. Insegnare e far crescere tutti quanti nella sicurezza è una delle sfide più gigantesche della nostra cultura e con i nativi digitali che non chiamiamo più nativi digitali, però con i nostri alunni quotidianamente la cittadinanza attiva viene proprio costruita anche attraverso un internet più sicuro e fruito e costruito in modo più consapevole. Quindi sono curiosa di vedere cosa possiamo veramente costruire durante questa serata di chiacchierata insieme. Grazie mille a tutte e due, mentre Marina e Claudia salutavano io vi metto il link a Digicomp che mi fa piacere che tu l'abbia citato perché appunto è un framework di riferimento molto importante e molto utile, lo vedete l'ho messo il link in chat, quindi se qualcuno fosse interessato a trovare il documento lo trova questo link. Allora riprendendo quello che diceva Marina, velocemente vi racconto un po' che cosa abbiamo pensato di fare, avremmo pensato di introdurre velocemente e poi Marina ci racconterà, ci darà dei tips su cosa fare in classe, in realtà l'attività è molto molto informale per cui l'idea appunto era condividere e condividere le nostre esperienze e darci dei consigli e dei suggerimenti. Io proporrò un paio di attività per la secondaria sia di primo grado che di secondo grado e poi davvero ci piacerebbe lasciare lo spazio alle suggestioni di tutti quelli che sono con noi e quindi condivideremo un documento e lasceremo dello spazio per proprio per lanciare e descrivere anche dando le coordinate sia che voi vogliate intervenire a microfono che soprattutto raccontandocelo velocemente in un documento condiviso di Google velocemente e che poi potremo insomma diffondere non solo come diceva Marina fra di noi ma anche condividerlo con altri colleghi. Quindi without any further ado io direi inizio velocemente dicendo due o tre cose che mi sembrano così degli spunti che possano farci riflettere, chi di voi un po' bazzica e twin in Toscana sa che la questione della sicurezza in rete e dell'uso consapevole della rete è un po' il pallino mio e ce lo siamo insomma un po' rimbalzato gli uni con gli altri anche l'ultimo seminario che abbiamo fatto a Grosseto a novembre il seminario regionale un po' di questo ha anche parlato, si è parlato anche di Digicomp per l'appunto e questa giornata è una giornata che offre un bel momento di riflessione, non a caso si parte, mi leggevo oggi alcuni dati di un'indagine che è stata su internet e sull'uso consapevole di internet, ci sono una quantità di indagini realizzate da istituti di ricerca, dal census, dalle varie università, Tenei, sparsi ovunque, per cui diciamo che se si fosse interessate ai dati c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma leggevo siccome in questi giorni si parlava di una giornata che è la giornata di oggi appunto che in occasione della giornata internazionale sulla sicurezza in rete è stata dedicata dal MIUR a un evento che si sta svolgendo in queste ore a Roma dedicato proprio a queste tematiche e quindi il tutto partiva, questa indagine partiva dal tema del hate speech che è particolarmente attuale perché tutti i giovani che sono anche al di sotto dell'età consentita per la navigazione di alcuni social network o anche dello stesso Whatsapp, quindi i giovani fra i 13-18 anni trascorrono gran parte della loro giornata in rete e tra l'altro appunto con dei problemi anche legati alla gestione del tempo famiglia, per cui io per esempio parlavo ieri con una coppia di amici che mi dicevano sì, noi abbiamo una figlia di 12 anni la quale ha un tempo telefono e alcune ore del giorno, in alcune ore del giorno noi le proibiamo di utilizzare il telefono, chiaramente lo smartphone e quindi le proibiamo di stare in rete perché altrimenti lei sarebbe completamente soggiocata diciamo fra virgolette e quindi inebetita davanti a questo schermo per cui noi siamo anche preoccupati, non sappiamo come fare perché queste sono anche delle persone diciamo piuttosto dinamiche ed evolute, niente da dire con la rete o contro la rete ma sono realmente preoccupati, quindi da questa ricerca emerge che il 40% degli intervistati studenti è online più di 5 ore al giorno, anche io quando faccio degli incontri con i miei studenti, con gli studenti dell'icea Rosmini dove io lavoro e del quale sono animatore digitale decisamente loro mi dicono noi passiamo tantissimo tempo davanti a internet, lo strumento che utilizziamo di più è senza dubbio Whatsapp e questo verrebbe confermato da questa indagine dalla quale risulta che l'80,7% dei ragazzi utilizza soprattutto Whatsapp, poi Instagram e poi Facebook e si pone il problema, modicamente si pone il problema della verificità delle notizie online, il 14% degli intervistati dichiara di non controllare mai, non verificare mai se una notizia possa essere vera o falsa e chiaramente questo li rende abbastanza anche vittima delle varie bufale, delle quali poi siamo vittime anche noi in realtà, ma diciamo comunque i ragazzi ne sono particolarmente vittima e qui entra in gioco appunto lo hate speech dichiara di di aver anche partecipato a, innanzitutto di approvare, dichiara di approvare gli insulti rivolti per esempio a personaggi famosi, sapete su Twitter quando si scatenano un po' i commenti o anche su Facebook si scatenano i commenti di odio nei confronti dei personaggi famosi ma anche di persone che conosciamo direttamente, quindi amici o comunque conoscenti e non solo di approvarli ma in parte anche di aver partecipato a questo tipo di comportamento. Sicuramente io quello che noto è che i ragazzi, io insegno in una scuola superiore appunto come ho detto, di secondo grado e i ragazzi con cui parlo mi dicono di rendersi conto che si trova in una dimensione in cui non è detto che l'identità che si dichiara sia la vera identità della persona che scrive e quindi si rendono conto molto bene a quanto dicono perlomeno di essere, diciamo di avere questo filtro, questo filtro fra loro e la realtà e si rendono ben conto per esempio che questo filtro funziona in modo molto efficace per la loro generazione quando si tratti di rapporti interpersonali, quindi si lasciano per Whatsapp, si fidanzano per Whatsapp, quindi rapporti amorosi che si creano e si interrompono, però certamente il problema della sicurezza in rete e della sicurezza dei minori in rete è un problema che ha una dimensione abbastanza importante e deve averla e deve averne sempre di più, io qui vi ho messo il riferimento al sito sia europeo di Safe for Internet Day che al sito italiano che ha preso questo nome di Generazioni Connesse, collegati a questi due siti ci sono moltissimi materiali sia ovviamente in lingua inglese che in italiano, il sito inglese ha un taglio un po' più impostato sui lesson plan diviso per i vari ordini di scuola, mentre Generazioni quindi ha vari tipi di attività, da attività da svolgere in plenaria, attività da svolgere sui gruppi classe, attività meno complesse, più complesse che possono essere gestite nell'ambito di una lezione singola o di più lezioni nell'arco dell'anno e invece il sito italiano devo dire che è un taglio molto più incentrato su video che sono stati realizzati e che sono pubblicati su Youtube, quindi si trovano facilmente, che sono interessanti, ma insomma hanno un taglio un pochino diverso. Io direi che, vedete qui vi ho messo anche dei link, il link alla giornata di oggi, quindi questo è un link al comunicato stampa del MIUR dedicato alla giornata di oggi che si sta svolgendo a Roma e ve l'ho messo perché ci sono all'interno di questo comunicato stampa dei riferimenti anche a istituzioni, organizzazioni che si occupano della tematica della sicurezza in rete e ovviamente oggi in abbinamento al tema centrale del bullismo e del cyberbullismo. Andando avanti poi io adesso lascerei lo spazio a Marina, andando avanti vi daremo anche due riferimenti a due documenti molto importanti rispetto appunto alla regolamentazione della vita in internet e della regolamentazione per ciò che riguarda la lotta al cyberbullismo nelle scuole, che è una cosa quest'ultima anche abbastanza recente e nuova, quindi ve lo daremo. Eccomi, io volevo condividere lo schermo, quindi Simona se me lo permetti lo faccio. E eccomi, piano piano lo... Certo, assolutamente. Ok, perché vi voglio far vedere un blog, parto dal blog, ditemi se vedete. Adesso ci vorrà un pochettino ma penso di sì, aspetta. Allora, adesso vediamo lo schermo nero. Perché volevamo parlare di cose concrete, quindi cosa fare a scuola, qualche idea. Una idea è quella di raccogliere, intanto per esempio su un pad, come vi faccio vedere se lo trovo, quelle che sono, riprendendo quello che ha detto Simona, quelle che sono le idee dei ragazzi su internet. È vero che ci stanno tanto, è vero anche che sono apparentemente esperti, in realtà sono sprovveduti. Qui la riflessione si può cominciare lasciando per esempio, come in questo caso, in un pad libero gli alunni di esprimersi. Questo è quello che io ho raccolto l'anno scorso. Per esempio una ragazza ha scritto che faceva chat vocali con un ragazzo, credevo che ne avessi 14, queste sono le cose che noi sentiamo dire nei video della polizia postale, quando va la polizia postale a scuola, ne parla con i ragazzi che ovviamente stanno zitti. Quindi da questa condivisione, credo che chi ha scritto, qui vedete dei nomi, ma io non ho un Antonio nella mia classe, ho dei ragazzi, ma Antonio no. Quindi credo che chi ha raccontato la sua esperienza ha voluto in qualche modo rimanere anonimo, soprattutto questo ragazzo che ha raccontato di questa ragazza che ha scoperto essere una 25enne per un 14enne, sono tanti anni di più. La prima cosa quindi è esplorare questo territorio e poi utilizzare uno strumento ancora di raccolta di un secondo contenitore come quello di un blog, ma potrebbe anche essere un altro strumento, un piccolo wiki all'interno della piattaforma della scuola e coinvolgere per esempio più ragazzi proponendo i materiali di cui abbiamo parlato. Mi scuso se qui abbiamo una doppia lingua, ma predomina il francese perché è la lingua che insegno, utilizzando ancora lo strumento della condivisione tra classi, di nuovo con un pad, i consigli, i consigli, i disegni, queste sono attività che si possono fare sia nella scuola superiore al biegno che nella scuola secondaria di primo grado. Mi fermo un secondo perché voglio chiedervi se queste attività di sondaggio le condividete e se ritenete che siano utili. Io li vedo in chat che state rispondendo. Marina? Io sono d'accordo con Luisella, leggo il commento di Luisella che dice che è molto più utile che far venire la polizia postale e basta. Io sono molto d'accordo, questo secondo me è un punto molto delicato nel senso che il rischio, anche io ci stavo riflettendo proprio stamattina perché nella scuola media che è accanto alla nostra scuola hanno organizzato un meeting con la polizia postale per appunto parlare del problema di cui stiamo parlando noi ed effettivamente punto, perfetto Luisella, mi hai tolto le parole di bocca, di fronte alla polizia postale il ragazzino, ragazzino, ragazzo, non soltanto i più piccoli ma anche i più grandi, il rischio è che si percepisca un fatto un po' lontano da loro e comunque non abbiano nessuna voglia di parlare di sé e delle proprie esperienze e comunque insomma il taglio è anche un'impostazione più appunto da polizia postale per cui ciò che non si deve fare è di carattere diciamo prescrittiva. Io credo che sia fondamentale invece che questi ragazzi capiscano che non sono cose che non vanno fatte perché qualcuno ce le impedisce, perché si rischia un reato, ma perché queste sono cose che mettono a rischio la sicurezza individuale e personale, quindi probabilmente sia genitori che ragazzi andrebbero coinvolti fin da molto più che prima delle scuole medie ma anche se non alla scuola di infanzia perché forse insomma sarebbe difficile fare un discorso del genere lì però già con i ragazzi di prima, seconda o terza elementare iniziare nel modo giusto a far utilizzare a questi ragazzi che sono assolutamente nati con le dita sugli iPad e quindi non hanno nessuna difficoltà secondo me neanche a capire quale siano gli usi corretti di questi strumenti, secondo me è molto più difficile spiegare come utilizzare e come essere sicuri a degli adulti che si cacciano spesso noi stessi, nelle situazioni in cui poi ci troviamo con il problema delle truffe, delle offerte fraudolente, secondo me i ragazzi sono molto più avvertiti di quanto non siamo noi, io questo penso, Marina, ci sei Mari? allora io non sento Marina, non so se si, infatti mi sentite Marina, mi sentite, sentite la mia voce? ok, perfetto, grazie mille, io vedo Marina che muove il suo cursorino ma non sento la voce di Marina Marina sei, tu ci senti, digita, prova a digitare sì, no, non ti sentiamo, no Mari cioè lei sente noi ma noi non sentiamo lei allora aspetta, vediamo un attimo vediamo un attimo scusate eh allora Marina Marina eppure tu hai il microfono acceso dobbiamo un po' magari alzare il volume allora ora mi sentite? ora mi sentite? perfetto, vai sì, sì, Marina, sì durante la condivisione sì, però hai visto che ma non sentivate quando parlavo io prima? prima, prima no? sentivamo fino a un certo punto, fino a un certo punto Marina poi ti abbiamo sentito fino a quando hai detto vorrei sapere cosa ne pensate di questa idea del sondaggio quindi a quel punto lì non ti abbiamo sentito più ok, stavo dicendo che prima di arrivare a delle attività concrete come proposte concrete da fare in classe sempre per una secondaria di secondo grado e anche a limite di primo grado e coinvolge i ragazzi con dei questionari ora non faccio più la condivisione per paura che vada di nuovo l'audio ma dei questionari da fare per esempio con Caut i ragazzi non parlano quando c'è la polizia postale non pongono domande però se giocano, sì allora con Caut che è uno strumento molto agile per creare sondaggi con lo smartphone si scoprono cose interessanti ho fatto le domande molto molto semplici mi sentite? sì ecco, queste domande portano a tirar fuori le incertezze, i dubbi ma anche le paure che non vengono fuori con la polizia postale sempre tornando al come utilizzare le tecnologie per aiutare le tecnologie vi ho messo in chat il link che è andata su a una app questa app che è su Google Store potete scaricare perché è in italiano ma è stata fatta anche in inglese e in francese è stata creata da dei ragazzi di seconda una seconda liceo l'anno scorso tutte le domande che sono state fatte il blog il pad ha portato a una creazione di un gioco allora, il gioco qui ha la forma di un'app ma ci sono dei generatori di giochi facili e praticamente già fatti su internet che avrebbero lo stesso scopo forse domande e trovare risposte per giocare a questo tipo di gioco in cui si chiede cosa faresti si vince un premio ti telefona uno ti dà un appuntamento su internet poi dice ci vediamo ci vai o non ci vai risposta vera o risposta falsa questo è un tipo di attività che si può fare secondo me in qualsiasi livello di scuola anche nelle scuole primarie perché ci dicono studi recenti ma anche l'esperienza delle maestre che i bambini anche in età di scuola primaria passano con il cellulare un grandissimo tempo della loro vita non è vero che i bambini piccoli sono tutti protetti come solo per alcuni è vero quindi con questi bambini è ancora più importante fare un'attività di questo genere ma anche fare drammatizzazione animare creare piccoli sketch filmare delle piccole pubblicità mi interrompo chiedo la vostra opinione e dico a Simona se vuole riprendere lei poi riprendiamo dopo con altri sì volentieri dunque intanto io stavo guardando via via la chat innanzitutto naturalmente chi di voi volesse prendere la parola lo faccia liberamente chieda di parlare lo facciamo vediamo senza altro spazio Marisa vi riassumo brevemente sono venute fuori delle cose molto interessanti qualcuno diceva Marina Orazzi diceva forse gli incontri con la polizia postale servono più per i genitori sì perché in realtà appunto i genitori Marina scusami non Marisa Marisa e Marisa Badini scusatemi in realtà il problema credo di fondo quando si parla di sicurezza e di rischi in internet ci sia grandissima confusione io proprio un paio di giorni fa mi trovavo a leggere dei commenti su Facebook una nostra collega di un altro ambasciatore twinning per il Veneto Lucia Allari aveva postato un commento in cui diceva così diceva ai genitori di controllare più da vicino i telefoni dei propri figli perché appunto sulle chat avvengono conversazioni così che possono essere pericolose o in cui comunque magari vengono bullizzati dei ragazzi più deboli o comunque insomma di tenere l'occhio i telefonini dei figli e una persona ha commentato questo suo questo suo post dicendo assolutamente no i ragazzi devono essere lasciati liberi di avere la propria la propria privacy la propria dimensione di di privato e che quindi noi ci dobbiamo fidare dei nostri figli e bla 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 e insomma a me è venuto in mente un po' di pensare del fatto che come diceva Marina i genitori sono inconsapevoli spesso dei rischi che corrono nei loro figli e quindi sono convinti magari di avere ragazzi che appunto fanno un certo tipo di esperienze in realtà poi i figli che noi tutti i giorni incontriamo in classe e che abbiamo davanti 5 ore al giorno hanno delle vite completamente diverse o comunque delle anche fanno anche cose che i genitori purtroppo neanche immaginano quindi l'idea di far parlare queste persone con la polizia postale in modo che loro siano messi di fronte a questi rischi credo che sia molto molto intelligente dopodiché dopo di che vedevo altri altri commenti e cioè della aspettate che me lo sono perso sì Marina diceva sempre survey monkey fare sì oltre il cahoot per appunto per queste attività utilizzare anche survey monkey per i risultati e per le percentuali oppure anche naturalmente google forms che suggeriva luisella che è uno strumento molto molto flessibile molto utile e poi ci sono tutta una serie di suggerimenti fatti da Marina e vedete che ci sono dei link link a giochi Marina ha linkato poi i blog insomma e poi appunto c'è un questa cosa che è linkato a drive che cos'è Marina scusami è una cosa che vi voglio se volete un attimino spero che non vada invia di nuovo la voce far vedere con lo sharing è la creazione di un piccolo passaporto digitale è un altro non è proprio un gioco prova a condividere lo schermo vediamo che succede ambiate pazienza se casomai torniamo indietro vado Simona si intanto che tu condividi vai vai intanto dico soltanto questa cosa vedo che Claudia ha condiviso il link a una medium story che raccoglie un po' il lavoro della sua scuola Claudia è animatore digitale nella sua scuola e appunto ha collezionato un po' di strumenti che ci mette che ci mette qui nella chat ma vedete Marina se tu procedi non lo vedete io per adesso vedo share my screen ecco ora qualcosa sta funzionando qualcosa sta accadendo vedete mi sentite ah si allora questo è il è il passaporto scusate in francese ma io ve lo traduco io ovviamente l'ho fatto in francese è la creazione proprio cartacea di un piccolo passaporto per internet in cui piano piano ogni ragazzo costruisce la sua identità digitale questa riflessione su quella che è l'identità digitale è interessante perché non hanno si è proprio un portfoglio non hanno l'idea della differenza qui vedete è come un'attività per un insegnante di lingua stato civile la personalità si costruisce l'identità digitale intanto cos'è l'identità digitale è l'interme delle tracce che lasciamo su internet fare questo giochino obbliga a fare questa riflessione normalmente lo stato civile la personalità le attività i gusti questo è quello che noi parliamo quando si parla della propria identità questa nostra identità a livello di passaggio su internet corrisponde alla nostra fotografia è una riflessione banalissima ma vi assicuro completamente ignota ai ragazzi che al massimo la scambiano per la cronologia è un confronto continuo per costruire questa attività tra l'identità digitale è quella della vita quotidiana nella mia vita quotidiana io non ho l'abitudine a dire tutto a tutti posso non dare l'indirizzo a uno sconosciuto non confido le stesse cose ai genitori a un professore al nostro migliore amico mentre quando io vado in internet qui ci sono proprio segnati i siti le reti sociali faccio una pubblicazione di qualsiasi cosa con chiunque una differenza che devono imparare a fare la fotografia della ragazza sulla spiaggia che si fa che mette un bel bikini e che si fa vedere bellina e non si ricorda che questa fotografia trasformata può finire in un book sta a noi ecco i genitori non sempre lo sanno nemmeno loro quindi i genitori ascoltano la polizia postale ma forse seguono di più un'attività organizzata dalla scuola nella quale un tipo di lavoro fatto con i ragazzi viene presentato come prodotto di fine anno vado avanti domande per costruire un gioco per rispondere al vero falso della app sto facendo scorrere e i diritti i ragazzi devono conoscere quella che è la legge in maniera molto molto semplice la condivisione di quella che è la legge quali sono i miei diritti e i miei doveri su internet quindi costruire un'identità digitale positiva questo è un diritto riflettere sull'immagine che devo donare che voglio dare di me ho il diritto di decidere cosa mostrare o no il diritto di sorvegliare le prime tracce per esempio farli riflettere sull'uso della password inserire la password in alcuni siti è rischioso inserire dei dati personali per accedere a dei siti è rischioso cosa mettere cosa non mettere come scegliere l'affidabilità di un sito quindi sviluppare competenze informatiche per parametrare gli accessi a facebook per esempio o a altri social creare un indirizzo mail che sia solo per alcuni usi quali sono i miei doveri non posso dire tutto non posso insultare non posso esporre la mia vita personale e non posso non rispettare il diritto d'autore sono dei temi grossi ma ecco la creazione di un piccolo decalogo in classe cartaceo per i bambini più piccoli digitale per quelli più grandi è comunque qualcosa che deve essere sempre a portata di mano tipo tavoli della legge di Mosè dieci cose chiarissime cosa devo fare e non devo fare nell'uso del blog di classe o di una piattaforma o anche di un progetto di training creare piccole sanzioni nel caso in cui queste regole non non fossero rispettate mi interrompo io concordo con vedo grande entusiasmo e complimenti nella chat al tuo lavoro Marina e tra l'altro grazie mille a tutte che hanno per aver condiviso un sacco di materiali devo dire quest'idea del passaporto è una grandissima idea e tra l'altro insomma è veramente scomponibile e utilizzabile a vari livelli come dicevi tu perché quando c'è un livello più elevato di astrazione nei ragazzi più grandi si può affrontare in un certo modo questo tipo di lavoro altrimenti si può lavorare con i ragazzi più piccoli io per esempio ho lavorato utilizzando ho realizzato un padlet con una delle mie classi dopo averli fatti riflettere proprio sul tipo di comunicazione che viene online su ciò che è lecito o non lecito su ciò che è giusto da un punto di vista del rispetto proprio dal punto di vista della comunicazione e sono emerse delle cose veramente anche divertenti oltre che interessanti e ho utilizzato uno strumento diciamo più informale e meno strutturato che è quello del padlet quindi loro hanno declinato quali fossero secondo loro le tre buone regole da osservare per una corretta comunicazione in rete però effettivamente questo lavoro che tu fai è un lavoro ancora più diciamo raffinato dal punto di vista della proprio della riflessione perché comunque può essere utilizzato anche come punto di riferimento e come modello quindi modello insomma come framework appunto quindi appunto anche per autovalutarsi per pensare come si è per pensare al proprio comportamento eccetera quindi io bravo dico ma io vi propongo grazie ma sono cose che ho preso la parola purtroppo senza chiederla scusa Simona però presa dal discorso che facevi tu vai vai mi viene in mente di proporvi di riflettere magari coinvolgendo i nostri ragazzi a un prodotto comune perché non pensare a un gioco a un gioco che costruiamo magari con un pochino di tempo un gioco di chi ha partecipato oggi o anche insomma di qualche altro collega che riprende queste idee per esempio anche qui vedete ci siamo serviti per fare la app di domande di riflessione il cellulare crea lo stesso tipo di problemi quindi con domande vero o falso per esempio l'utilizzazione del telefono in classe mette in causa la mia attenzione vero o no vero e qui c'è la risposta hanno il diritto di confiscare il mio portabile il mio cellulare quando l'utilizzo in classe vero c'è una legge che non lo permette posso prendere delle fotografie o dei video di una persona per diffondere liberamente a tutti falso cioè sono eventualmente piccole cose da far realizzare in modo che creino loro stessi il famoso decalogo di cui abbiamo parlato prima per esempio ho lato questa domanda possono autorizzarmi a utilizzare il mio telefono in certe situazioni urgenti è vero in qualsiasi momento hai il diritto di usare il tuo cellulare anche quando te lo proibiscono se c'è un motivo di sicurezza tutte le informazioni che io ricevo sul mio cellulare sono esatte anche questa è una cosa interessante il cellulare come internet non sempre è vero ricordiamoci che c'è lo spam nel cellulare e c'è la violenza e c'è quella che in francese si chiama le telefonate di chi ti sta addosso il telefono non ha alcuna incidenza sulla mia salute falso fare andare in bicicletta telefonando è tollerato perché non è non è un motorino falso ecco tutte queste domande banalissime dovrebbero essere oggetto di un come posso dire di una riflessione semplice ma condivisa perché anche il consiglio di casse un percorso di questo genere sarebbe io vorrei a proposito dire una piccola cosa che insomma volendo credo che potremmo anche pensare di fare magari un gruppo in cui questa cosa possa pensare in un futuro di diventare anche un'app per esempio comunque non so ecco c'è questa cosa prima io parlavo con Marina del ormai una cosa che da qualche tempo da qualche tempo gira la possibilità di realizzare utilizzando gli accordi in rete del miur sapete che ci sono sul sito del miur c'è una sezione dedicata agli accordi in rete e uno di questi è un accordo fra l'odiatissima Fastweb o amatissima Fastweb non lo so però insomma comunque fra Fastweb e Appela che è una piattaforma di crowdfunding che si sono unite per finanziare o cofinanziare in realtà dei progetti realizzati da scuole e a questo punto si potrebbe pensare di fare qualcosa tutti insieme quindi magari che ne so partire da un progetto e twinning tutti insieme chi fosse interessato e riescono e danno un contributo per la realizzazione di prodotti che per il 50% arrivino a un finanziamento su una piattaforma di crowdfunding quindi l'idea il prodotto può essere appunto presentato sulla piattaforma sapete come funziona il crowdfunding c'è un obiettivo da realizzare il pubblico finanzia se ritiene l'idea interessante è raggiunto l'obiettivo che l'inventore diciamo si è si è dato Fastweb e Appela direi più Fastweb che Appela finanziano il rimanente 50% fino a un massimo di mi sembra 10.000 euro per cui questo potrebbe essere anche un modo per per fare una cosa di questo tipo e proprio realizzarla perché credo che potrebbe essere davvero una cosa molto molto carina non so che ne pensiate oppure come avevi proposto tu Simona quando preparavamo questo questo intervento creare un piccolo ebook in cui si raccolgono delle esperienze dei consigli dei decaloghi o semplicemente lavorarci con un po' più di tempo facendo creare veramente un giottino ai ragazzi ai bimbi vediamo ecco forse qualcuno di voi vuole prendere la parola Simona vediamo se se ci sono reazioni che ne pensi sì sì Cinzia dice quando realizzare questo progetto non lo so parliamone nel senso che i tempi ce li possiamo anche dare noi io avevo creato un google docs per consentirci appunto di condividere qualche tip anche soprattutto di attività posso trovare allora intanto lo condivido e così almeno abbiamo uno spazio dove scrivere aspettate un attimo lo condivido qui e poi non lo so perché effettivamente mi sembra che fra di noi ci siano ci siano tanti ci siano docenti di diversi ordini di scuola quindi anche questo potrebbe essere interessante perché si potrebbe lavorare in verticale e non lo so quando forse l'anno prossimo eh sì Marina ecco infatti pure tu dici l'anno prossimo non lo so che dici tu Marina o che dite voi se volete c'è qualcuno che insegna informatica di scusa tra voi o che può lavorare con un docente un collega di informatica io ho un collega di informatica che può collaborare ma se facciamo un progetto per esempio Luisella ora non c'è per coinvolgere anche altre scuole con cui abbiamo buoni rapporti non è detto che dobbiamo dobbiamo per forza averlo nella nostra scuola io per esempio penso a un collega io vivo a Livorno e questo collega insegna a Ponte d'Era ha insegnato nella mia scuola ora si è trasferito credo che collaborerebbe quindi potremmo anche sicuramente coinvolgere altre scuole l'interesse di un progetto è questo però creare un'app creare un gioco digitale di un livello un pochino più complesso da eventualmente far diventare progetto di scuola lavoro di azione Marina guarda io sto leggendo via via la chat e vedo per esempio Cinzia ci dice pianificare un'idea per iniziare subito il prossimo anno e ci dice che lei è un bravissimo collega di informatica che usa il pc al posto del libro di testo e poi volevo dire anche a Marisa che ci dice che forse la presenza della scuola della scuola primaria sarebbe un po' marginale secondo me invece la sfida dovrebbe essere proprio quella di cercare di integrare tutti perché poi in realtà io credo che se si riuscisse per esempio anche a fare un discorso di interazione fra i ragazzi di età diversa potrebbe anche avere un valore aggiunto al di là dell'acqua cioè è tutto penso che potrebbe venire fuori una cosa molto carina posso Simona perché volevo dire la scuola primaria in questo periodo sto lavorando con delle colleghe della scuola primaria e materna e mi sono accorta che non solo l'interazione è più che possibile ma che è interessantissima per esempio i problemi loro hanno usato CAUT nella scuola materna e hanno fatto creare delle simulazioni di gioco trasformando i bambini nei personaggi del gioco del videogioco quindi io credo che la creatività delle insegnanti della scuola materna e primaria sia talmente grande che non ci sia poi una difficoltà nel coinvolgerle anzi i genitori della primaria sono molto molto più sensibili una di queste colleghe mi diceva che lei aveva usato un Padlet per raccogliere semplicemente i disegni dei bambini i disegni dei bambini su un Padlet per noi non sono un problema il bambino è andato a casa e ha detto la maestra mi ha fatto scrivere su un sito la mamma o il babbo è andato tutto arrabbiato dicendo ma come ma come quindi bisognerebbe coinvolgere moltissimo i genitori quindi non solo a livello di informazione sulla sicurezza o sul pericolo di internet ma sull'apporto che potrebbero darci o dare a un progetto di questo genere condividendo gli strumenti qualcuno diceva anche del chiedeva Marina chiedeva solo scuole italiane ma no certamente si può la cosa può essere estendibile secondo me questa è un è un'idea che si può sviluppare in verticale ma anche in trasversale nel senso coinvolgendo scuole di altri paesi utilizzando altre lingue il che ci consentirebbe anche di lavorare su diverse competenze fra cui anche quella linguistica insomma sicuramente questa è un'idea che rischia fra virgolette di diventare una specie di progetto Erasmus ecco quindi cosa non da escludere insomma quindi io sono d'accordissimo sull'idea di coinvolgere i genitori coinvolgere i genitori non solo della primaria ma poi alla fine anche della secondaria fino a quella di secondo grado perché i genitori capiscano poi che l'utilizzo del che insomma una buona educazione nel senso di istruzione passi anche attraverso una buona cultura digitale e soprattutto perché io credo che poi i genitori a mano a mano che passano gli anni non sono coinvolti dai loro figli e invece amerebbero moltissimo essere coinvolti in ciò che i loro figli fanno e potrebbero anche darci dei suggerimenti potremmo perché no trovare delle competenze fra i genitori anche coinvolgerli proprio praticamente nelle attività che realizziamo un'altra cosa che diceva che diceva qualcuno in chat credo marisa marina scusami marina orazzi sarebbe bello riuscire a coinvolgere di più i consigli di classe e questo credo che sia forse il tasto più dolente nel senso che secondo me dobbiamo affidarci anche così allo spirito delle anime gemelle cioè se troviamo qualcuno nei consigli di classe che ci viene dietro bene altrimenti non scoraggiarci mai d'altronde nessuno è profeta in patria quindi se ci riusciamo bene altrimenti per esempio penso che Luisella potrebbe avere Luisella insegna al Fermi potrebbe esserci che è un istituto tecnico potrebbero potrebbe avere dei colleghi magari quando ci sente registrata potrebbe avere dei colleghi interessati a collaborare quindi insomma secondo me sì tutti i suoi twinning certo assolutamente Simona forse potremmo dare la parola a Marina Orazzi che ci dice come ci è riuscita perché tutti i suoi twinning un consiglio di classe Marina si è stata grandissima non grande certo posso parlare vuoi la parola Marina sì ti sentiamo prova a alzare un pochino l'audio poco poco marina scusate se ti interrompo prova ad avvicinarti un pochino al microfono perché io perlomeno sento veramente lontanissimo infatti anche Marina e Marisa ci dicono che non sentono prova ad alzare il microfono meglio sì molto meglio ok oddio scusa stavo dicendo che la carta vincente ma nulla di nuovo è partire ecco da questa condivisione di questi percorsi che sono stati avviati subito dopo quella riflessione iniziale che abbiamo fatto con il RAB in qualche modo abbiamo compreso per fondamentare lavorare insieme per a piccoli passi per elaborare dei percorsi che fossero verticali e che coinvolgessero i consigli di classe di sessione di tutti gli ordini di scuola io sto in un istituto comprensitivo di pensare e questo poi chiaramente c'è chi ha questa disponibilità e chi meno ma senza nessuna forzatura siamo riusciti a fare qualcosa di buono che chiaramente è sempre migliorabile nell'ottica anche del RAB la cosa più bella è stato anche il passaggio di condivisione con altre scuole europee e questo è stato di grande motivazione anche per i colleghi che adesso si trovano magari a sentire un evento online in classe e che quindi sono motivati a fare queste cose questa mattina quando ci siamo collegati proprio con i nostri partner per cantare insieme per mostrare quello che stavamo facendo i nostri giochi linguistici cruciverba cerca parole in base sempre alle varie insomma ai vari livelli è stato un momento di gioia per tutti non solo per i ragazzi è un lavoro faticosissimo che io ho iniziato tanti anni fa ma in cui credo fortemente e bisogna spendere tante energie ne avete sentito? sì ti abbiamo sentito benissimo grazie grazie mille effettivamente le energie non sono mai abbastanza quando bisogna quando insomma si vuole fare un lavoro di questo tipo e non bisogna mai mollare in realtà vedo che poi piano piano si riesce a portare lentamente le persone così diciamo a convincerle un piccolo esempio quest'anno abbiamo iniziato con delle attività che usavano il stagull nel brainstorming su tutto quello che riguardava la rete i ragazzi ho fatto il primo stagull in classe è uscito di tutto e ho fatto delle cose bellissime le colleghe di lettere che hanno visto dicono lo vogliamo fare anche noi ci insegni o abbiamo fatto dei padlet con delle presentazioni in inglese usando bocci e lì anche lì i colleghi di spagnolo e di francese hanno detto ah ma come si fa e quindi è tutta questa ricaduta a pioggia sul lavoro di tutti che è fondamentale per condividere è fondamentale condividere non avere paura di sbagliare io quando pubblico i lavori nei miei ragazzi sono con gli errori non c'è problema sono veri però proprio perché sono con gli errori però è frutto del loro impegno e della loro motivazione che è fortissima loro mi chiedono di fare il progetto ogni volta e io calo il progetto nell'attività quotidiana non ho altro io stessa mattina per esempio di una prima dove stiamo facendo un progetto per celebrare il prestatizio anche questo è un progetto di decido in classe che avrà come compito in realtà la parata di tanta gente che faremo fuori dalla scuola e i ragazzi io ho spiegato un head coach con la descrizione ho fatto un piccolo reputero sulle forne del verso che può essere descrivendo il leprecano in inglese quindi non dobbiamo mai perdere di vista quello che i ragazzi devono imparare le cose essenziali quindi è un duro lavoro ripeto grazie per l'attenzione ecco ci siamo grazie a te del tuo contributo c'è qualcun altro allora io vedo stavo guardando intanto la chat c'è qualcun altro che vuole dare il proprio contributo che ha voglia di raccontarci qualcosa oppure Marina vuoi dire tu qualcosa non so sì volevo aggiungere una cosa che bisognerebbe creare una una ovviamente una carta di istituto una una carta di uso di istituto di internet una sorta di regolamento perché si deve andare forse dal 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 basso come quanto utilizzare le stampanti quanto utilizzare lo scanner oppure ecco nella scuola è permesso non è permesso portare le chiavette è permesso non è permesso installare programmi quali sono i siti bloccati quali servizi di internet sono sono autorizzati e a quale si può accedere dai computer della scuola o dal insomma dal dalle lim quali sono gli impegni che ogni ogni scuola si si dà in questa direzione quali sono le informazioni legali che la scuola dà sull'uso dei diritti d'autore quindi ci vorrebbe a livello di classe di piccolo gruppo di alunio o di singolo alunno ma soprattutto di scuola e ritorno all'idea delle sanzioni le sanzioni non certo l'espulsione perché anche su questo sarebbe interessante riflettere proprio pochi giorni fa ho avuto un racconto da una collega un recattino con tra l'altro problemi grossi di comportamento è stato severamente punito e sospeso perché in un computer del laboratorio informatico o insomma linguistico in cui stava lavorando senza blocchi e senza possibilità di essere controllato dal docente che si trova da un'altra parte dalla parte opposta al laboratorio è andato sul sito porno ora su questa cosa non possiamo riaprire un discorso perché è lungo ma sanzionare un ragazzo in questa situazione bisogna chiedersi quanto è colpa del ragazzo quanto è colpa anche di un di un blocco che non c'è perché l'insegnante non può materialmente sorvegliare e la colpa non è solo del ragazzo ovviamente secondo me c'è anche un'altra cosa progettare spazi informatici o spazi di apprendimento in cui il computer non riproponga il banco e lo schema frontale della classe in un in un ambiente in cui si utilizzano i telefonini e tutti ci si guarda in faccia o il tablet diventa molto più difficile fare qualcosa di diverso dal gruppo quindi sono tutte idee che ovviamente possiamo riprendere che potremmo tenere presenti in un prodotto successivo ma che mi sembrava importante in conclusione di benissimo allora io darei un'occhiata all'orologio sono le 7 e un quarto e più o meno ci eravamo dati come abbiamo come scadenza le 7 e mezzo quindi io direi innanzitutto che avevamo pensato con Marina anche di darvi due riferimenti che sono li vedete ora sullo schermo e una dei due è oltre naturalmente al framework di cui parlava prima Claudia a cui abbiamo accennato DigComp all'inizio della nostra chiacchierata questi sono la dichiarazione di diritti in internet che è la dichiarazione che è stata pubblicata vi ho messo il link io qui da qualche parte dovrei anche averlo e che è un documento del 2015 che fu diciamo ha segnato un po' una svolta nel in questo tipo di di area perché effettivamente ci fu una consultazione pubblica ed è un documento che ha un carattere molto importante senza precedenti è una novità insomma assoluta e poi anche questo è un documento molto più recente perché insomma ha visto varie versioni successive ma questa è la più recente della fine del 2016 ed è il piano nazionale prevenzione bullismo e cyberbullismo a scuola ed è un pdf un documento del miur e quindi qui vi abbiamo messo i link ora io vorrei mentre qualcuno sta andando via giustamente vi salutiamo Marina adesso ti do subito la parola vorrei capire come vogliamo diciamo come rimaniamo come si dice quando si si torna quando si finisce di mangiare una pizza come rimaniamo che si fa Marina dici cosa cosa pensavi di dire io vi volevo intanto solo solo un secondo far vedere un attimo una cosa perché vi ho parlato lo vedete il mio schermo lo vedete vediamo nero ma stai caricando eccoci sì eccoci sì come abbiamo parlato di carta dei diritti di passaporto ecco questo mi spiace in francese ma è quello che faccio firmare alla fine c'è questa cosa diventa molto formale firma dei genitori data firma dell'alunno quel famoso decalogo prende una forma di impegno quindi la punizione di cui parlavamo prima non avrebbe più senso in una situazione del genere c'è l'autopunizione non so se mi sto spiegando non ha è un impegno che il ragazzo si prende è un impegno morale è un impegno condiviso è un impegno che si prendono anche i genitori quindi quelli orribili consigli di classe non so se voi Marina non ti sentiamo più mi senti? ora si ah vabbè comunque prova volevo solo dire mi sentite ora? vai vai no ma concludevo ho tolto la condivisione per evitare nei consigli di classe in cui ci sono punizioni perché hanno usato il telefonino perché sono andati sul sito porno diventino dei tribunali non è questo non può essere questo i ragazzi possono andare sul sito porno in qualsiasi momento nella loro giornata dobbiamo arrivare al punto di far capire loro cosa significa navigare sul sito porno cosa significa perdere del tempo su una cosa di questo genere cosa significa affidare la propria identità a sconosciuti quindi questo potrebbe essere l'impegno che il genitore l'alunno e l'insegnante prendono firmando firmando proprio un documento un impegno che non è di costituzione di condotta di voto ma di di crescita e poi per come rimaniamo potremmo continuare a scrivere nel forum di questo evento per vedere se è un fuoco di baglia o se è un amore vero tutto qui io sono d'accordissimo aggiungo che potremmo anche magari certamente sicuramente utilizzare la piattaforma ma per praticità potremmo anche pensare di lasciare sul se volete se vi va lasciare la vostra email nel file la mail insomma di lavoro che utilizzate anche per i tweening sul file google che vi ho condiviso e si potrebbe perché no creare un gruppo su anche creare un gruppo sui tweening cioè cerchiamo di trovare il sistema che sia più pratico per tutti quanti per lavorare per collaborare quindi qualsiasi sistema funziona insomma perché sia non sia una sovrapposizione agli strumenti che uno usa in genere perché sennò diventa diventa complicato ecco ma diamoci una scadenza allora se io dire sì diamoci una scadenza Cinzia mi dice google doc più diretto anche però diamoci una scadenza e Luisella sì dunque Luisella scusami Luisella che è rientrata ci dice ho delle maestre con le quali mi piacerebbe lavorarci e io chiedevo prima Luisella mentre tu non c'eri tu hai perché questa cosa era emersa hai eventualmente dei colleghi che si occupino di informatica con i quali poter ragionare sulla possibilità di realizzare un gioco o realizzare un'app o realizzare qualcosa del genere per esempio comunque insomma se 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 ti viene in mente ok lei sta scrivendo diamoci una scadenza intanto ok diamoci una scadenza non perdiamoci di vista dice dice Cinzia molto d'accordo e poi sarebbe bello anche magari vedersi una volta o l'altra perché ci si vede con cadenza talmente talmente lasca che dimmi proponi propone cioè visto che abbiamo Simona che è il nostro punto di riferimento potremmo fare un altro incontro tra un po' Simona lo rilancia come ha fatto per questa volta qui dopo che abbiamo riflettuto e facciamo un'oretta come abbiamo fatto oggi in cui mettiamo sul fuoco la carne visto che è l'ora e ci ci aggiorniamo sul concreto come diceva qualcuno in chat adesso non mi ricordo ci vuole un'idea concreta un paio di idee concrete le possiamo condividere votare o discutere trasformare e poi possiamo lanciarlo questo progetto perché no ok io mi stavo chiedendo anche un'altra cosa rispetto al vedersi e all'incontrarsi questo è anche il periodo di piani regionali perché entro il 15 bisogna presentare i piani regionali per la la formazione per il 2017 quindi gennaio dicembre 2017 il che si ridurrà come sempre credo ai mesi di aprile maggio poi giugno insomma siamo tutti più o meno inguaiati settembre ottobre metà novembre chissà mi chiedo ma me lo chiedo insomma lo verificherò magari capire se ogni regione magari delle regioni che sono coinvolte qui quindi la Toscana l'Abruzzo la Sardegna e l'Emilia Romagna credo che ci siamo se non sbaglio non so Ivan Graziani di che regione sia comunque si potrebbe magari pensare di di mettere so di trovare una forma di finanziamento magari per realizzare un incontro che sia anche abbia una una veste di formazione magari anche aperta all'esterno per cui che sia finanziabile da indire perché insomma non credo che indire finanzierebbe un nostro incontro di progetto ma forse finanzierebbe anche se cofinanzierebbe magari quindi parte ridotta un incontro che abbia anche come obiettivo quello di voler essere una formazione rivolta all'esterno non so che cosa ne pensiate Marina ottimo 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 perché in effetti ci vorrà e da qui è farlo tu hai detto il finanziamento non avremmo mai immaginato che alla fine di stasera facevamo un Erasmus Plus cioè praticamente stiamo progettando in questa direzione pensiamo ai finanziamenti queste sono dice Luisella occasioni che danno energia in effetti quando ci troviamo tra noi tra i twiners succede sempre così comunque sarebbe proprio interessante allora io direi siccome fra 5 minuti credo che ci ci sfumino come dicono quelli che fanno televisione e poi oltretutto a proposito di sugo sono le 7 e mezzo quindi ognuno di noi avrà impegni più o meno familiari o di altro tipo perciò io vorrei intanto ringraziare tutti quanti a partire da Marina e da Claudia Marisa Luisella Marina Ivan Barbara la Cinzia insomma tutti quanti Milena che è andata via e le amiche che ci hanno raggiunto subito dopo mi sembra un'amica fosse Giuseppina Maria Traistaru insomma tutti quanti per aver partecipato a questo incontro speriamo che anzi mi sembra che siano emerse delle idee veramente veramente carine veramente belle e per un Erasmus addirittura c'è tempo un anno per cui potrebbe essere davvero una potrebbe insomma iniziare in un progetto e twinning potrebbe iniziare proprio così quindi io direi una cosa se voi lasciate la vostra mail sul Google Doc io adesso vi dimetto se riesco rapidamente a ricondividere il documento vi metto il link in chat in modo tale che se vi fa piacere possiamo possiamo restare in contatto possiamo cominciare a rifletterci e possiamo cominciare a ragionarci insomma rispetto alla nostra scuola e poi incrociamo le cose io magari fra un 20 giorni un mese come diceva come diceva Marina posso fissare un altro un altro live se siete d'accordo Marina vuoi salutare anche tu mi ero messa a leggere quello che con entusiasmo è già nel Google Doc vi ringrazio ovviamente mi fa piacere moltissimo aver condiviso con voi questo piccolo questa retta di ricerca e di condivisione sono momenti di gioia pedagogica la mia questa è la mia sensazione come ogni tanto dico grazie grazie speriamo di farne qualcosa di buono grazie a Simona che ha sempre queste belle idee perché è Simona che lancia il sasso questo va detto sempre grazie mille allora vi saluto tutti salutiamo tutti 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 con un abbraccio e saluto anche Claudia non so se c'è ancora o se è su europeana comunque tanto ci si riveda prestissimo e ci si risentirà prestissimo quindi un saluto carissimo a tutti quanti aleggia Claudia ok aleggia quindi anche noi aleggiamo e magari che ne so una di queste volte andiamo tutti quanti all'Aquila a trovare Claudia come Cinzia e qualcun altro online ricorda è stata una delle più belle esperienze personalmente di twinning forse di tutti i tempi quindi un saluto a tutti sì vero si potrebbe andare all'Aquila dice Luisella organizziamo perché insomma in fondo l'Aquila è dietro l'angolo anche per l'Emilia Romagna si raggiunge velocemente Roma e poi in un'ora si è all'Aquila quindi parliamone che così ci 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 andiamo anche a mangiare gli arrosticini un saluto un saluto a tutti quanti e metto a presto la presto la registrazione adesso vediamo come posso fare se metterla su Youtube linkarla su sui twinning o mandarla a voi vediamo che cosa mi consente di fare un abbraccio carissimo a tutti e a presto grazie mille di essere stati con noi